Una bella serata di fine estate a Ponteburiano nei locali della Cric per la supercena giallo-blu del gruppo sportivo Ponteburiano. A presentare la serata Francesco Duranti, gli ospiti Riccardo Galantini in arte Riccardino, il DJ Diego Gorellini e il simpaticissimo Serafino Casso. Serata arricchita anche da una lotteria a premi ma soprattutto da un succulento menù cucinato dai cuochi Mike e Luciano, rigorosamente in piena tradizione toscana, all'ombra di quel Ponte della Gioconda che in questo momento si sta rifacendo il trucco. Un evento di convivialità di questa comunità che poco tempo fa si era ritrovata anche davanti alle nostre telecamere per i 40 anni della storica battitura.